Grazie a tutti. 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 Aspetta che non ti sento, aspetta. Ballano dietro, ballano! Dicevi? Dai, dai! In che senso? Ma non accende la fiamma? Cioè, vanno e poi dopo un po' si spegne la fiamma? Manca aria, manca aria, manca aria, manca aria. Non so, ma non so che se chiudo perché... Ma mi sembra strano. E lì, guarda, con il gas è semplice, o l'uscita aria o la mancanza d'aria in entramba. non c'è altro? Non c'è altro? Allora, il gas, se arriva che accende, accende, boh, non è un problema di gas, a meno che non c'è... Quindi, o hai mancanza d'aria in aspirazione o hai mancanza d'aria in uscita. Prova a vedere di staccarne una e fare la prova con una macchina sola, se puoi. L'unica prova che puoi fare è quella, per il momento. Però, ripeto, lì ho un'entrata aria e ho un'uscita aria. Quante macchine hai lì? Allora, prova a staccare una linea. Ne lasci solo due di macchine. Prova a vedere se va. Due colonne, esatto. Perché se hai una mancanza di gas, mancando la colonna, magari stacca la prima. No, cambia! Andavi qua, Luca! Con tre non va, eh? Rientro, secondo palo, dai! Ma tre oblò di tre macchine diverse? No, perché usa tutte e tre le linee. Prova a staccare una linea e lascia gli altri due asciugatori, quello sotto e quello sopra. Ok, fammi sapere, dai. Ciao, 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 ciao. Alla fine ti ha segnato che non ho capito. Sono chiaro. Vedi, lo volevo tirare... Hai visto? Hai visto il calcio? Torna, torna! Che bello! Sono! Eccolo, eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo! Eccolo! Vai per terra! Calma! Calma! Va bene, va bene, va bene! Vai bene, va bene! c'era deviata scarci e non l'ha toccata ma vai a lavorare davanti fagliela vedere la gamba deficiente hai visto che bozza il cammino sulla gamba vai ricky vai ricky vai ricky è tua è stato secondo me o no su luca fuori il gioco bravo danny hai bisogno Mike che cazzo di rimessa è? calma calma forte 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 questo è da giallo giallo sicuro giallo sicuro è pesante non è facile schiattare il pesante giallo Oh, ancora che continui! Buttalo fuori, buttalo! E buttalo fuori, buttalo fuori! Vai, vai, fa' il colo, vai! Fuori, fuori! Vai fuori! Ehi, Michele! Vai a giocare! Dimmi, Simo! Siamo 1 a 1 qui! Manca una mezz'ora buona! Non ti sento! Non ti sento, Simo! Non ti sento, Maggio! Ok, dai, ci senti a dopo! Vai, Luca! Vai, Luca! Vai, Luca! Vai, Luca! Vai, via, via! Vai, via, via, via! Vai, via! Vai! A no! Vieni, 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 vieni! Occhietà, occhio! Va bene, no! Vieni, dico occhio perché è pulito! Vi saluto! non ci crede più nessuno dai scappa peri scappa peri vai sovien, vai sovien va bene, va bene, stringi lo, stringi lo no, no, stringi, aiuti vai, viste vai, viste vai, viste vai, viste vai vai, viste vai, viste come se la vede, tira, porca puttana gira, gira, gira buona Non passa, non passa 103! e allora adesso si chiudono bene si peri forte peri forte sono dai che passa peri non è niente peri non è niente peri forte sono non è niente peri scendi peri scendi peri bella 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 no 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 No, di più, di più, siamo al venticinquesimo, scappa, bravo, bravo, bravo. Va bene, va bene, va bene, meno male che è uscito l'11. Ragiona! Giro! Bastardo, piede al martello! Oh! 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 Oh, non vi ho, non vi ho, non vi ho! No! ma che cazzo fuori gioco non farei fallo Sibò non va, non va, non va un po' di fortuna mai cazzo mai 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 vabbè buon giro poi faccio sempre vai di cino vai di cino vai di cino apri apri di là stai scarica La scarica lì, è dietro. 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 Oh! Oh! Non serve, non serve, non serve. Non serve, Momu! Oh, lo portate via, oh! VIDE! Leo! Prendi Momo, Leo! ricchi giovane gioca gioca ricchi ricchi si sta provocando te lo mangi a me te lo mangi ragazzi non perdiamo la testa giochiamo ma cos'è oh ma no ma che cazzo fa dai rimessa laterale a palla per terra così bravo 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 va bene va bene presto che sbaglio presto che sbaglio quarantunesimo vai momo vai momo 4 minuti mi fa ragazzi mi fa ragazzi mi fa ragazzi mi fa ragazzi si e faccia che lo mettiamo dentro va bene va bene dai bravo Roby bravo Roby bravo Roby bravo Roby bravo più recupero giro Riki giro oh oh ah ah oh ok no 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 mickey mickey no no mickey luca 3 a 1 a tempo scaduto pure. Sì! Sì! Grande Nicky! Grande Nicky! Grande Nicky! Grande Nicky! Grande Nicky! Vai vecchia! Bagna tutti! Vai! Grande Nicky! 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 Bravo Roby! Fai pressing! Oh mio Dio! C'è una macchina parcheggiata qui eh! La mia è lontana va bene! Finita da un'ora! Quarantasettesimo dire! Bravo Dani! C'è l'ora che è buttato dai! Colma colma! Tiegela! non va, non va, non va e poi lo il mio amicco, lo l'aiuto dai iaio, iaio, scappa iaio, iaio non era 15 metri indietro no puttana che facciamo golle una foto sbagliata tranquilla, la buzione è sbagliata manca lui Grazie a tutti Grazie a tutti Uno che esce Ma che cazzo Sto stronzo qua che dava rigolo Quanto manca? Quanto siamo qua?